Ecco, noi siamo in compagnia di Fiorenza. Fiorenza che ha fatto da coordinatrice, da moderatrice, un tavolo di sovranità alimentare. Bene, e quali sono le fasi? Le fasi di ogni tavolo sono l'applicazione della democrazia partecipativa, quindi abbiamo una prima parte di conoscenza, quindi ci sono degli oratori che spiegano ai cittadini, espongono ai cittadini degli argomenti, questi argomenti vengono approfonditi, poi dopo una pausa, questa è la parte conoscitiva, poi dopo una pausa c'è una parte propositiva dove si cerca di arrivare a delle azioni, azioni a tre livelli, individuali, locali, comunali, territori e nazionali. Bene, e alla chiusura poi si traggono le soluzioni racchiuse in punti? Si cerca di arrivare a delle azioni non per votazione ma per consenso, quindi la sfida è raggiungere il consenso. E in questo senso le azioni devono essere condivise, se non si arriva a questo consenso vengono comunque riportate, però appunto non è un dibattito, non deve vincere una parte su un'altra, che ci si confronta per trovare proprio di cercare una sinergia delle zone di consenso. E ieri come è andato questo tavolo? E' peggioro che c'è stato anche ieri il tavolo sulla sovranità alimentare. Ieri è andato bene, le proposte alla fine dovevamo finire di discuterle, perché un consenso unico su una decisione in particolare non si è trovato, ma su un'azione sì, quello di rimanere collegati per lavorare su quelle che abbiamo proposto, sulle azioni che abbiamo proposto, che essendo questo un tavolo di sovranità alimentare erano principalmente legate al contrasto alle monoculture, al pesticida, al recupero dei vecchi semi, alle organizzazioni di gas autonomi, sul discambio di informazioni sulle adulterazioni dei prodotti sul territorio. E questo è un tavolo, il Nord 2, legato a una zona geografica e le persone di ieri cercavano di fare rete per trovare degli accordi sul territorio. Ma poi c'è uno scambio di numeri di telefono? No, 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 ieri... Quindi la rete come si crea? No, la rete già esiste tra le persone iscritte, la rete già esiste tra le persone iscritte ovviamente. Però la... No, dico, abbiamo qui per esempio 20 persone, queste 20 persone se vogliono fare rete concretamente vuol dire che poi devono restare in contatto oppure no? No, no, ma restare in contatto è facile perché sia... Tramite il sito? Esatto, esatto. Perché tutto quello che voi fate qui dopo verrà trascosto... I lavori che escono da qui ovviamente rimangono e quindi sono recuperabili dalle persone che vi hanno partecipato. Bene, quindi c'è la... Oltre a portare individualmente... In questo caso ci sarà la sezione sovranità alimentare. Esattamente. Si entra dentro, si clicca e ci sta il lavoro... Adesso questo come poi sarà strutturato? Ah, non lo sai, va bene. Intanto grazie. Grazie a te. Ciao. Ciao.